buongiorno ragazzi la nostra radio mattutina questa mattina se vuoi fermati guardati intorno specchiati se puoi quello che vedi sei tu sei proprio tu e quella è la vita che stai vivendo e no no non è piovuta dal cielo vedi la vera svolta la vera svolta arriva quando ci trasformiamo da vittime ad interpreti arriva proprio nel momento in cui iniziamo a mettere da parte l'orgoglio sì quell'orgoglio che ci tiene bloccati iniziamo veramente profondamente ad interpretare le difficoltà così potremmo smettere sicuramente di crogiolarci nelle nostre sofferenze considerando le uniche uniche irrisolvibili ma non sono così uniche non sono così risolvibili dobbiamo smetterla a volte di sentirci troppo importanti nelle nostre sfighe sentirci troppo importanti nei nostri dolori così facendo diventeranno piccole 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 e noi potremo iniziare davvero a vivere la vita una vita la nostra vita che ci renda davvero felici buona giornata